Salve a tutti, bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema a riguardo che non puoi salvare file in una cartella perché non hai i permessi, anche se sei proprietario del tuo computer però non hai i privilegi di fare modifiche o salvare file in una cartella, quindi come fare? in questo caso possiamo direttamente mettere i permessi all'intera cartella di windows, quindi questo pc, disco locale c, scendi fino a giù fino a trovare windows possiamo farlo o su un documento che vuoi salvare in una cartella oppure direttamente nella cartella di windows quindi facciamo tasto destro sopra, mostra attrazioni, proprietà e vai su sicurezza ed eccolo qua tutti i pacchetti applicazioni, quindi in questo caso io vado su avanzate, proprietario che non è TonyGamer17 quindi devo cambiare e mettere un altro proprietario, stesso nome che trovo qua sotto faccio cambia, vai su avanzate, vai su trova ed eccoli qua, tutti i nomi scendi fino a giù fino a trovare il tuo nome più la tua email attaccata e faccio, ci clicco, lo metto qua dentro e faccio ok una volta fatto ed eccolo qua, proprietario sono io più la mia email e faccio applica faccio ok e faccio ok una volta fatto l'ho messo a tutti i pacchetti applicazioni vado su modifica ed eccolo qua controllo completo e modifica quindi il proprietario della cartella TonyGamer17 più la sua email attaccata è stata così aggiunta a tutti i pacchetti applicazioni faccio applica faccio sì ok una volta fatto se non dovesse funzionare nella cartella di windows puoi farlo direttamente su un solo documento file quindi stessa cosa tasto destro sopra proprietà sicurezza come puoi vedere ho messo così il mio nome e la mia email e dai così privilegi al tuo nome utente e alle mail che hai messo assieme al nome che hai creato sul tuo pc quindi tu sei il proprietario quindi tu hai il permesso di fare modifiche e salvare file in una cartella per altri problemi ancora commenta sotto al video cercherò di fare un'altra guida in alto a destra nella playlist ci sono vari video su come creare un profilo e diventare amministratore completamente sul computer quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao